L'Accademia delle Arti e della Muro Dipinto scende in campo, è proprio il caso di dirlo, organizzando un tre giorni dal grande valore culturale e sociale. Fabrizio, quando si terrà e chi saranno i protagonisti? Beh, i protagonisti saranno tre, una famiglia di Bickler, Didi Bickler, il pittore, Johannes Bickler, il compositore di Colonne Sonore e di altre cose molto interessanti, e Ruth Bickler, fotografa. Tre personaggi che fanno arte, cultura, fanno musica, che ho pensato di portare qui, ormai sul Lago d'Orta hanno fatto di tutti e di più, soprattutto Didi con la sua Matilda nei muri dipinti di Legro, ma era un momento importante per unire questi due comuni, Corna Sotto e Corna Sopra, in un evento culturale che va al di là della grande rassegna di Quarna Musica che ormai valica i confini del Cusio. E quindi il 2 di settembre ci sarà il concerto, proprio qui su questa piattaforma, in un angolo meraviglioso. Qual è l'attività principale in questo momento dell'Accademia delle Arti e del Muro Dipinto? Allora, innanzitutto l'Accademia delle Arti ovviamente si occupa di cultura, quindi l'idea dell'Accademia è sempre quella di innovare e di portare il più possibile la cultura dei nostri paesi, e quindi è per quello che qualche tempo fa abbiamo modificato la nostra missione passando da Proloco di Legro ad Accademia dei Muri. I miei disegni rappresentano gente dei luoghi che si comportano bene, meno bene, però sempre con un minimo di humor. Ecco, cerco di fare questo e la bottiglia, come hai detto, c'è su quasi tutti i quadri perché a me, come ripeto, mi piace il vino. E tutti quelli che lo bevono, di solito, è gente simpatica. La mia fotografia, appunto, riflette qualcosa che esprimo perché vado a girare, a scoprire cose che quasi quasi mi cercano. Questo tour intimo ci ha portato in Italia da nord a sud e in luoghi intimi, raccolti e caratteristici perché non solo nelle case delle persone ma anche in luoghi particolari. Quanto è importante, anche per le comunità delle Due Quarne, un appuntamento come quello che ci sarà a settembre? L'appuntamento è certamente importante, è un piccolo tassello che viene inserito nei festeggiamenti delle Quarne e si spera che abbia sempre una continuità dopo. Qua là sotto sappiamo che ha la tradizione incredibile della musica come produzione di strumenti ma proprio anche come cultura e qua là sopra in questo caso può mettere a disposizione questa sorta di arena di velona naturale senza strutture ma con tanta natura dove veramente la musica si può ascoltare e vedere in maniera completamente diversa.